È notizia di qualche giorno fa che Apple avrebbe dimezzato la produzione di iPhone X da 40 milioni a 20 milioni di unità riducendo la richiesta di componenti presso i suoi vari fornitori cinesi. Inutile dire che questa notizia ha scatenato un grandissimo chiacchiericcio che ha portato a definire l'iPhone X un flop. Prima di dire qualsiasi cosa è però giusto precisare che non sappiamo e non sapremo mai quanti iPhone X Apple abbia venduto ma la cosa che sappiamo per certo è che a casa Cupertino non si stanno sicuramente strappando i capelli per queste ipotetiche vendite inaspettate di iPhone X in quanto a fronte della pubblicazione dei dati dell'ultimo trimestre le vendite di iPhone pur essendo diminuite dell'1% in termini di volume sono aumentate del 13% in termini di ricavi. Chiarito quindi che non stiamo parlando di un fallimento di Apple cerchiamo comunque di capire, di fare delle ipotesi sul perché le vendite di iPhone X potrebbero essere state sotto le aspettative. Il primo motivo è stato a mio parere il fatto che al posto di essere stati lanciati sul mercato due nuovi iPhone, come capitava praticamente ogni volta ne siano stati lanciati tre contemporaneamente iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Questo ha per forza di cose influenzato le vendite di iPhone X anche perché, arriviamo al secondo motivo, stiamo pur sempre parlando dell'iPhone più costoso di sempre e quindi nel momento in cui uno vuole aggiornare il proprio telefono è forse più probabile che vada a parare su un iPhone 8 piuttosto che su un iPhone X. E perché la maggior parte di queste persone ha scelto iPhone 8 al posto di iPhone X? A mio parere arriviamo al terzo motivo, è influito anche tanto il fatto che nel primo mese di distribuzione di iPhone X i tempi di attesa erano veramente molto molto dilatati. Ed in più, e arriviamo al quarto e ultimo motivo le caratteristiche che distinguono l'iPhone X dall'iPhone 8 non sono poi così essenziali ma risultano essere quasi uno sfizio o comunque mirate a una nicchia di clienti. Queste sono secondo me le motivazioni che hanno portato l'iPhone X a far registrare dei dati di vendita sotto le aspettative ma essendo appunto dei pareri non dimenticarti di farmi sapere qui sotto quali sono le tue.